Mi chiamo Leo Reste, sono nato a Cagliari, 31-1,75. Ho iniziato il tiro a volo nel 2007, primo campionato disabili. Le vittorie più importanti cosa posso dire? Fino a oggi ho fatto dieci titoli italiani nella categoria disabili, non ho mai mancato il podio ai Grand Prix internazionali, fresco fresco ho fatto il bronzo nella Coppa del Mondo che si è fatta quallonato questo mese scorso. Vittorie da venire, mi preparerò per i prossimi mondiali e se tutto va bene cercherò di andare nelle Paralimpie delle prime che ci apriranno le porte. Il tiro a volo per me è che uno stile di vita ti dà perché hai bisogno nella vita di esprimerti, di trovare la tua eccellenza. Diciamo che lo sport è un compensativo della vita. Sparo attualmente col Beretta di T11, aspettavo da tanto tempo questa accoglienza che ci ha dedicato Beretta. Per me Beretta è anche una tradizione di famiglia perché siamo tutti cacciatori e abbiamo sempre sparato con i Beretta. Gesto scarammatico, niente.